Parse, il nostro Padre potente viaggio, il nostro Padre potente ad un minore di scada, e il nostro Padre potente aijezio di Cristo, e il nostro Padre potente ad un minore di scada. Grazie, signore. San Giacomo di Poglione Ado, corri, tu e la distinamia, a di chiamare, a di chiamare, a di chiamare, a di chiamare, a di chiamare. Ado, te chiamare. Noi canteremo gloria a te, padre dai la vita, io dimensata vita, prima e infinita. Tu lo hai creato, vive in sé, segno della tua gloria, tutta la storia di darà. Onore di gloria, noi canteremo gloria a te, padre dai la vita, io dimensata vita, prima e infinita. Che il Signore in mezzo a noi, veniremo a tua casa, tutta la pace e l'unità, la luna da tua chiesa. Noi canteremo gloria a te, padre dai la vita, io dimensata vita, infinita, infinita. Le nuove del padre, del figlio, dello spirito santo. Amén. Signore sia a te, padre dai la vita, e a te, sorelle, per celebrare le menti dei santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Siamo arrivati a portare ai poveri dietro l'annuncio, a preguamare i piccoli e le liberazioni. Alleluia, alleluia, alleluia. Il cuore, il Dio nel cuore, all'uomo per circonferenza. Chi ha veramente il Dio nel cuore non è mai solo. Non è mai solo. Apriamo il nostro cuore a Dio e Lui ci rincompenserà di questo grande atto di fede nella speranza e nella carità. la scolata, perché il Signore possa sempre visitare voi, stare con voi, soprattutto nel momento della difficoltà e del bisogno, e possa aprire sempre di più il cuore di questa comunità nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. O Signore, nel grado del Quartesimo, purifica e rinnovi la tua Chiesa, per renderla santa e immacolata. Donaci la grazia del tuo Spirito, perché sulle ordine di Cristo possiamo annunziare la tua immensa misericordia. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Amén.